Il nuovo commissario per l'emergenza coronavirus è il potentino Francesco Paolo Figliuolo, succede a Domenico Arcuri e va a rinforzare la squadra dei Lucani nei ruoli apicali del governo. A fargli compagnia ci sono infatti Roberto Speranza alla sanità, Luciana Lamorgese all'interno e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'editoria Giuseppe Moles. Nato a Potenza nella 1961, il generale Figliuolo è stato comandante della contingente nazionale in Afghanistan e delle forze NATO in Kosovo, poi ha guidato l'ufficio generale del capo di Stato Maggiore della Difesa e quindi dalla 7 novembre 2018 è stato nominato comandante logistico dell'esercito. In questa veste già all'inizio della pandemia ha collaborato l'operazione Interforce per far rientrare in Italia con nazionali che erano a Juan in buona sostanza, un alto ufficiale dell'esercito al posto di un manager Arcuri per gestire la pandemia. Il generale Figliuolo è anche cittadino onorario di Potenza dalla 2016. Un augurio di buon lavoro alla generale di Corpo d'Armata, Figliuolo arrivato dal governatore Lucano Bardi, un figlio della nostra terra che saprà interpretare al meglio, ha detto questo delicato ruolo, contribuendo a portare l'Italia fuori dalla pandemia.